Nell'ultimo ora c'è stata la dura presa di posizione del Calcet di Arezzo, fortemente preoccupato per tutte queste partenze eccellenti legate alla chirurgia robotica che era diventato ed è un punto di eccellenza della sanità retina, prima il professor Sbarana, poi il dottor Ceccarelli e dunque c'è un problema di qualità che se ne va della sanità retina oppure no, una decadenza che va avanti da qualche anno oppure no. Secondo il direttore generale Desideri con il Calcet è stato tutto ricucito, forse c'era stata un'incomprensione, per Desideri i numeri parlano chiaro, la qualità di Arezzo è molto elevata, lo conferma il fatto che tanti pazienti da fuori regione vengono qui ad Arezzo a curarsi e a operarsi. È talmente buono il rapporto che abbiamo col Calcet e con il loro presidente, ma insomma un po' con la gente del Calcet che non mi sono assolutamente preoccupato, tant'è che ho invitato il presidente Sassoli a partecipare alla conferenza dei sindaci proprio come mio ospite e lui è stato bravissimo, ha seguito tutto, è stata una grande opportunità e ha visto i dati, i numeri, i risultati, gli esiti delle cure anche in altri campi, ma in modo particolare nel campo della chirurgia e della chirurgia robotica e i numeri parlano, le opinioni, i corridoi, le preoccupazioni lecite sono tante, ma poi i numeri parlano. C'erano tante persone che erano preoccupate, che ne so, il dottor Scatizzi per esempio era presente e poi soprattutto c'erano 39 sindaci molto informati e molto documentati e molto attenti. C'era l'assessore, c'era il presidente dell'UNCEM per rappresentare i piccoli comuni, insomma la sala era proprio piena. Abbiamo presentato una quantità precisa ma anche numerosa di dati e i dati dicono che abbiamo aumentato molto l'attrazione, soprattutto in chirurgia, vengono da altre regioni, solo quest'anno abbiamo quasi raddoppiato l'attrazione per la chirurgia. La chirurgia robotica ha aumentato l'attività, oggi che parliamo ci sono 14 chirurghi che quotidianamente adoperano il robot, naturalmente in modo programmato che sarebbe una turba pericolosa. Noi abbiamo già avviato, questo ci tengo a dirlo, proprio ci tengo, abbiamo già avviato, ma subito, il primo di luglio, quindi molto prima che si preoccupassero tutti, per dovere, perché è il mio compito farlo, il concorso per il nuovo primario di chirurgia che sarà un giovane, spero di trovarlo bravo e giovane, ma lo cercherò con requisito di avere un'esperienza nell'ambito della chirurgia robotica. E parliamo di chirurgia generale, non possiamo però dimenticarci che siamo, o i secondi o i terzi in Europa, nel campo complessivo, quindi c'è tanta di attività urologica, ginecologica, o torino-linguiatrica che ci vede primi in Italia, quindi insomma, davvero, insomma, preoccupiamoci perché è sempre bene essere preoccupati, ma non esageriamo.